del capo. Ben alzati? È quasi mezzogiorno. Davvero? Ecco perché muoio di fame. Chi viene a pranzo con me? Che cos'hai addosso? Non giubbata fresca, è caldo. Sai, si adegua. Stiamo discutendo il tuo nuovo paziente. Discussione noiosa, dato che non ho accettato nessun nuovo paziente. L'hai accettato prendendo i miei 5.000 dollari. Oh, un momento, aspetta, quando dico che farei qualsiasi cosa per i soldi, scherzo. Ti piacerà, vedrai, il ragazzo subisce una scossa elettrica dietro l'altra. Perché ti servivano 5.000 dollari? Brutta lottata a poker o mitica con una squilla? Grazie per avermi risparmiato la ricerca di una risposta spiritosa a una domanda personale. Universitario? Il protossido di azoto è divertente alle feste e ti dà le scosse. La birra fino al vomito ti provoca di tutto. Vitamina B12. Già fatto e abbiamo anche escluso il cancro, la sclerosi multipla e tutte le neuropatologie più comuni. Spondilosi cervicale? Non spiega i leucociti bassi. È nero. E non perché sia sporco, ma perché è di origine africana, quindi ha un numero basso di leucociti. Non così basso. Fa wrestling, forse usa i diuretici che possono abbassare i globuli bianchi. Non così tanto. Non così tanto. Sindrome di Bechet? Niente eruzione cutanea. Herpes zoster cervicale, inerite. Ma ci sono manifestazioni esterne. Qualcosa ci sfugge, cercate di scoprire cosa. Non ho afferrato il concetto. Beh cercatelo, scopritelo e chiamatemi. Io sono a pranzo.